Questo incontro per spiegare un po' tutta la cittadinanza, le diverse modalità e scamotage che voi state cercando di trovare per risolvere dei problemi che avete trovato in eredità per quanto riguarda il vostro comune e il vostro mandato. Sì, in effetti a Camerota si sta in questi giorni discutendo molto di tributi, quindi della SOGET che è la società di riscossione che si occupa dei tributi. In questi giorni è stata avviata da parte dei consiglieri di opposizione una raccolta firma per mandare via la SOGET. Diciamo che noi da mesi stiamo lavorando per rimodulare questo rapporto ereditato con un contratto di nove anni dalla vecchia gestione e firmato da alcuni consiglieri di opposizione che oggi chiedono di mandare via la SOGET. Quindi cominciamo con dei paradossi che vanno verso l'inverosimile. Noi dal canto nostro invece di fare polemiche sterili ed inutili affrontiamo i problemi come li abbiamo affrontati e come abbiamo trovato non solo per quanto riguarda la SOGET. Ricordo che situazioni medesime le abbiamo ritrovate anche per quanto riguarda le società portuali che erano allo sfascio e che noi abbiamo invece oggi rimesso in piedi esternalizzando quel servizio. Così abbiamo fatto per i parcheggi e così abbiamo fatto per la tassa di soggiorno. Quindi sono tante le situazioni a Tavi che oggi affrontiamo quella della SOGET. Abbiamo già rimodulato il contratto portando gli agi dal 14 al 2% in alcuni casi e al 4,75% in altri e risparmiando circa 3 milioni e 200 mila euro nel contratto che dura nove anni. Oggi chi sostiene che la SOGET deve andare via e che ha firmato dovrebbe sapere che prima di mandar via una società non basta una raccolta firme ma ci vuole un provvedimento della procura, ci vuole un provvedimento di un giudice e questo comporterebbe anche fermare la macchina dal punto di vista della raccolta dei tributi. Ai cittadini bisogna anche spiegare se si manda via la SOGET qual è l'alternativa, se troveremo una società che possa riscuotere con i tassi di oggi i tributi per Camerota, che fine faranno i soldi che oggi sono nelle tasche della SOGET se si apre un contenzioso e quindi dobbiamo poi capire tutte queste pagamenti che sono in mano alla SOGET, che fine faranno se si apre il contenzioso e se poi quel contenzioso non va a buon fine la responsabilità sarà di un'amministrazione che non ha in nessun caso responsabilità in quanto quel contratto lo hanno firmato coloro che stanno facendo la raccolta firme e tra di loro ci sono anche dei consiglieri di opposizione che erano in disaccordo con quelli che hanno firmato oggi il contratto. Quindi un groviglio di contraddittorietà che non risolve il problema, che non lo affronta, che non dice la verità ai cittadini e che noi con molta calma e tranquillità risolveremo. Tengo ad aggiungere che a differenza delle chiacchiere, dopo aver rimodulato a favore dei cittadini di Camerota il contratto e reso umano, stiamo provvedendo anche a rifare il regolamento perché la SOGET oggi va a tassare in base a degli indirizzi che gli sono stati dal Comune e quindi questo regolamento non è stato stilato o stipulato da questa amministrazione ma sempre dai soggetti che oggi invece chiedono di mandare via la SOGET. Oggi vanno in giro a dire come mai si paga lo specchio aqueo e come mai si paga invece le aree verdi nei villaggi ma dimenticano di dire che quel regolamento lo hanno fatto loro e che noi stiamo rifacendo. Inoltre stiamo per istituire una commissione tra la SOGET, il Comune di Camerota e la parte civile, quindi imprenditori, amministratori e semplici cittadini, ossia i contribuenti, che nomineremo anche dei responsabili da parte loro per far sì che ci sia piena equità nel giudizio nel caso ve ne fosse bisogno.